è vero c'è la tristezza di non poter fare la solita colazione ma hai una vita professionale davvero splendida io sono uscita diciamo con i miei pezzi più di successo alla fine degli anni 90 a cavallo tra il 90 e il 2000 quindi sono stati gli anni in cui ho vissuto veramente e ho capito cosa significa essere una vip se fossi rinata canzone che brano pensi possa essere rappresentativo della tua anima e perché la mia anima forse c'è visto che le anime non sono mai in un verso solo no ma tante caratteristiche mi venuto in mente appena mi stai parlando mi venuto in mente show me love di robinette per quanto riguarda sempre questo genere un po' grazie grazie